1.50 Sotto di voi posa Temerfica, scarica, pinta Ancora un rimasto per lui Tiro dalla media, non buono Ancora la salva Si piede, ovviamente non è valido Complimenti per la spettacolarità Se riparte, posa sotto alle mano 1.25 Dalla luce per il pareggio 2 Stato qui, ci vieni pure al tavolo 1.10 Non buono Sta lontanissimo Non la metti a dentro Sempre un minuto Al termine, sotto di due posa Arresto e tiro Non si attraverga nel canestro C'è un pallo E' il quarto pallo verde E qui non c'è bonus 37 secondi Tiro dalla media E non entra La palla Arresta Bianca Si butta indietro Sottrazione Non buono 27 secondi 20 20 15 15 6 Tiro Non è stato non buono A tiro libero per lui Buono 11 a 8 10 5 4 3 2 1 5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1